Poi lo scarico è per Mandragora, il suo diventa un tiro, entra in porta con tutto il pallone Radu La Fiorentina probabilmente la vince sulla giocata di Mandragora che segna l'esordio Aiutato però dalla papera di Ionot Radu che si è trascinato il pallone in porta E dopo almeno tre paratone consegna probabilmente la vittoria alla Fiorentina 3-2 E qui evidentemente non ha calcolato bene la sua posizione, la posizione di conseguenza della porta L'ex portiere dell'Inter Si esuta